Ciao a tutti, sono Andrea della Caravambacci e oggi voglio far vedere un portamoto. Portamoto un po' particolare perché consente, in caso di non utilizzo, di poterlo posizionare, come vedete in questa posizione, riducendo molto gli ingombri effettivi del portamoto stesso. Particolarità di avere anche tutto il gruppo ottico a LED e in montaggio l'abbassamento della struttura è molto molto semplice. Vengono levati i perni di sicurezza, allentati i galletti laterali e il portamoto viene giù in questo modo qui. La moto viene caricata tramite la rampa che è integrata all'interno della slitta portamoto stesso. Una volta caricato lo scooter o la moto sopra, viene fissato con dei comodi braccetti qui fuori. La slitta non la dovete appunto rimettere in garage, ma rientra comodamente all'interno della struttura. Ovviamente tutte le installazioni sono fatte su misura dei veicoli, quindi vi invito a passare presso la nostra officina per avere un preventivo ad hoc. Ciao a tutti!